In occasione delle giornate europee del patrimonio per la 24esima giornata del settembre culturale al castello, in anteprima il canto degli eroi, l'Iliade. Non potevamo celebrare nel migliore dei modi questa prima giornata dedicata al patrimonio, sono 50 paesi in Europa che celebrano contemporaneamente questa importante ricorrenza e siamo ancora estasiati, siamo rimasti proprio in silenzio, sacro silenzio, ad ascoltare questi passi bellissimi dell'Iliade recitati in maniera magistrale dall'attore Peppe Barile, siamo già ansiosi per i prossimi appuntamenti, per le prossime letture dell'Iliade che si terranno tra il castello di Agropoli e il palazzo civico delle arti. Ho scelto determinati personaggi da mettere al centro di questi incontri tematici pensati proprio come l'incontro di un cantore con il suo pubblico e quindi ci siamo concentrati su alcune figure più importanti come in questo caso Achille Agamennone o anche su delle passioni, sulla forza di alcuni rapporti come l'amicizia, sulla presenza delle donne, la figura femminile come saranno nei prossimi incontri, ad esempio quella di Elena e di Andromaca. È una luna che tra virgolette dà vita alla guerra vera e propria, Andromaca invece che la subisce nel profondo, prospettandosi un futuro da schiava e da vedova con un bambino piccolo, quindi delle situazioni fortemente drammatiche. Abbiamo pensato appunto di non leggere i libri integralmente ma concentrandoci appunto su queste figure, personaggi o comunque in generale delle passioni che ci accomunano tutti perché possono essere tuttora valide per tutti quanti. Uno dei testi più belli della nostra tradizione letteraria ed è purtroppo poco conosciuto dai ragazzi perché si studia poco nelle scuole dove nella migliore delle ipotesi si fanno delle selezioni che però non rendono in giustizia un testo poetico così bello e quindi abbiamo deciso di sperimentare anche con alcuni insegnanti delle scuole di Agropoli una sorta di laboratorio culturale che avvicini i ragazzi e anche semplicemente le persone che amano questi testi a una serie di percorsi che sono quelli che appartengono alla nostra identità. Questa sera un primo quadro, vogliamo un attimino ricordare anche le date e come si svilupperà il programma? Sì, sono previsti degli incontri nei fini settimana di ottobre, a partire dal primo ottobre, sono aperti a tutti gli studenti che vorranno partecipare che potranno avere anche dei crediti per la partecipazione a queste serate, si svolgeranno nel nostro museo civico e affronteranno varie tematiche legate al mondo degli eroi. Oggi abbiamo parlato dello scontro tra Agamemnon e Achille, il prossimo incontro sarà un'immagine, un ritratto di due donne fondamentali nel racconto che sono Elena e Andromaca. Una provoca la guerra, l'altra in qualche modo la subisce.